Io sono Lisa Rambaldi e rappresento l'associazione Figli del Mondo di Rimini, che è un'associazione di promozione sociale che dal 2002 opera sul territorio di Rimini anche per conto della Camera di Commercio, ora della Romagna, e svolge un'azione di promozione della responsabilità sociale di impresa. Riguardo al progetto Lavoro Libere Tutte, vinto dalla provincia di Rimini, quindi il bando regionale, siamo ben lieti di dare il nostro contributo non solo in termini di quello che è per noi un principio molto importante della responsabilità sociale, l'empowerment delle donne, delle lavoratrici e la possibilità di collocare sul lavoro persone invece donne che fanno più fatica ad oggi a essere ricollocate. Il nostro ruolo all'interno di questo progetto è un po' quello del coordinamento della rete, del monitoraggio delle azioni definite e della rendicontazione, quindi sarà un ruolo che avrà ancora più spessore verso la fine del progetto. Il nostro ruolo in particolare è proprio quello di tenere traccia di tutte le azioni e le attività che si portano avanti come da programma in questo anno, 2020, e rendicontare alla regione, quindi dare seguito delle attività e degli obiettivi raggiunti. Ad esempio dovremo rendicontare le azioni rivolte alle imprese, abbiamo aperto una call per chiamare imprese che vogliono fare, sottoporre le proprie lavoratrici ad un questionario e poi a tutto un percorso formativo in ottica sempre di maggiore integrazione delle figure delle lavoratrici all'interno delle proprie aziende e anche questo sarà oggetto della rendicontazione delle nostre attività. Così al pari tutti i percorsi formativi rivolte alle lavoratrici e anche alle non lavoratrici che sono messi in campo appunto attraverso una forte rete di enti di formazione. Rendicontare è molto importante anche e soprattutto per quelli che sono gli sviluppi futuri del progetto, in particolare è un'opera che serve alla disseminazione dei risultati perché qualunque attività facciamo se non riusciamo a comunicarla e se non riusciamo a dimostrare che ha avuto effetti positivi, quindi ha generato un impatto sociale soprattutto in questo caso, non avrà poi un seguito. In particolare è importante per dare continuità al progetto e stimolare azioni di emulazione, magari anche da altre realtà territoriali.